Un dato preoccupante emerge da uno dei settori più importanti, anche quello dai migliori risultati economici del nostro paese, quello dell'agroalimentare sempre più preda degli interessi della mafia. La crisi alimenta il business delle agromafie, ovvero le infiltrazioni della malavita nelle industrie agroalimentare. La conferma, cifre alla mano, arriva dal rapporto presentato dalla Coldiretti al Forum Internazionale dell'Agricoltura, che si chiude oggi a Cernobbio. E i dati diffusi sono allarmanti. Il volume d'affari dell'agromafia è salito a circa 14 miliardi di euro nel 2013, con un aumento del 13% rispetto a due anni fa. In contortendenza rispetto alla debolezza economica dovuta alla crisi, perché del cibo ovviamente nessuno può fare a meno. La longa manus della malavita sul settore alimentare, di vera la Coldiretti, fa lievitare a dismisura i prezzi di frutta e verdura sulle nostre tavole, fino al 294%. Basti pensare che quasi un immobile su quattro, fra quelli confiscati e le criminalità, erano destinate alla produzione agricola. Capito la parte riguarda la drammatica mafia dei rifiuti. Sempre più spesso, infatti, le campagne vengono usate per smaltire sostanze tossiche. Un business criminale, quello dei terreni contaminati, che ha raggiunto la cifra record di 3,9 miliardi di euro. E l'emergenza che consuma la terra dei fuochi, fra Napoli e Caserta, nella plastica dimostrazione. Mai più gomorra nei campi, perché noi dobbiamo tutelare assolutamente i nostri agricoltori, gli agricoltori onesti, la gente che lavora e che è danneggiata purtroppo da tanti eventi legati all'illegalità. È un dovere, ma soprattutto è un diritto delle nuove generazioni. È il momento di gusto.